Grazie a tutti. Tutto quello che dovrete fare sarà essere voi stesse. Oh, scusate, queste sono per voi. È tutto a posto, davvero. State solo il fumo e lo spavento. Ma vorrei che ricordaste una cosa, la più importante di tutti. No, che non lo scopri da solo! Li scoprirete un po' alla volta e riuscirete a gestirli nel modo migliore. Io voglio conoscere le ragioni del suo gesto. È un po' tardi per le visite, cercate qualcuno. Eppure la sua stanza era vuota. Sì, e nessuno ha visto niente. Sarebbe stata dura convincere la gente che si trattava di un altro film. Nessuno. Se avete voglia di restare un po' da sole con noi... Bisogna che gli uomini tornino a credere nelle fate. Il cerchio bianco è qui, ne sono sicuro. Forse si tratta di un appassionato di animali. Eccolo! Hai pane poco? Adesso ti do la pappa. Incredibile! È bello sentirvi così premurosi nei nostri confronti. Il latte che ha devuto l'ho attenuto tra... Che sta succedendo? Che cosa? Non ci voglio parlare! Noi siamo in curia al nostro potere se poi sbagliate anche io. Non se ne parla neanche. Vedrai che con il tempo ti ci abituerai. Se avete voglia di restare un po' da sole con noi... Vi accontenta subito! Pensavo che avremmo passato la domenica con loro. E invece ora siamo rimaste soli. E che ti lamenti? Deve essere da questa parte. Ma cosa non esclude l'altra? E non sarà l'unica fata di questo pianeta! Perché non ce ne parli? Vedrai che ti farà bene. No. 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 Però. No. 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 Grazie a tutti. I cuccioli sono tuoi e noi non vogliamo portarteli via. L'ho trovato!